Eccoci qui di nuovo in diretta, allora Pelegatti. Dopo il fatto delle congiunture abbiamo chiarito io e Tony Damascelli, non sono molto d'accordo anche con l'Anna, e va bene ma scusami, perché ha detto che il Napoli e il Milan dovevano, no, il Napoli aveva un sorteggio molto difficile e secondo me il Napoli non si è avvicinato non si è avvicinato alla qualificazione, speriamo sia già qualificato, con la partita di due giorni fa, ma con la partita di andata a Manchester, perché debutti in Champions contro una squadra che debutta in Champions con grandissime ambizioni, che sta andando bene, fai un 1-1 meritato, è lì che hai fatto il salto di qualità. La vera sorpresa è il Napoli, infatti. Assolutamente. Ma del Napoli parleremo ampiamente più tardi, adesso volevo rivolgermi sempre a Pelegatti per parlare di questo Milan e di ieri sera, e allora il Barcellona, siamo tutti d'accordo, è la squadra numero 1 al mondo, quindi perdere ci sta, però non sono stati un po' eccessivi i titoli dei giornali di oggi che hanno visto tutti un grande Milan? Per me il titolo giusto, magari è mio, è buon Milan o grande Milan, l'aggettivo lo mettete voi? No, ho detto, l'aggettivo, va bene, allora diciamo, per me è stato un eccellente Milan ma non è bastato, il titolo è, allora togliamo, non è, non è stato sufficiente, cioè il Milan di ieri, che pure, signore, ha giocato un'eccellente partita, perché il Milan ha giocato una buona, ragazzi col Barcellona devi giocare, cioè fai due gol, sei 2-2. Se ti accontenti della partita che hai giocato ieri in Milan vuol dire che sei diventato una provinciale, una provinciale, una provinciale, vuol dire che io sono, allora se io gioco così, Fulvio, 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 se io gioco così, non può accontentarsi della sconfitta con Barcellona, no, no, in questo momento io, ragazzi, ci sono dei limiti nel Milan a livello di classe, ma perché dei limiti, hai Ibrahimovi, c'è Chiago Silva che è il migliore vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, poi, centrocampo hai dei problemi, perché come ce l'ha? Cioè, avere Iniesta, Schal, sì, ma avere Iniesta, avere Schal, non giocava Iniesta, non giocava Iniesta, in generale stiamo parlando, non della partita di ieri. Ma quello che dice Carlo è vero, perché in mezzo al campo il Milan... Ma lo sa anche Adriano Galliani che ci sono delle differenze. Fermiamoci a pellegrati e non andiamo agli altri dirigenti. Dico una cosa, che il Milan ha differenze, no, non è lo stesso, a differenza del passato ha perso la qualità. Milan era una squadra che non macinava... Stai trovando la qualità? Fammi finire, fammi finire. Il simbolo nuovo del Milan, so che lui non è d'accordo, si chiama Pris Boateng. Boateng è un giocatore da rollerball, fa gol, fa il clown anche lui... No, no, c'è un bel piede, c'è un bel piede, c'è un bel piede, sì, io preferisco il piede di Andrea Pirlo, tu preferisci il piede di Boateng. Ho detto che preferisco? No, nel senso che la mia è una provocazione, serve per un semplice motivo, che oggi si scelgono i muscoli, il Milan storicamente, il Milan di Berlusconi, non ha cercato il muscolo, ha cercato il giocatore di qualità e anche quello spettacolare. Sono passati Rivaldo, sono passati Ronaldinho, non parliamo della classe italiana dei Donadoni, dei Pirlo... Aspetta, fammi finire, se Karen Seddorf, faccio il pezzetto, non credevo in Karen Seddorf... Stiamo finendo un concetto. Eh no, e dovete essere veloci, però, eh, se mi interrompe, se mi interrompe, sto finendo un concetto. No, no, ragazzi, qui devono parlare tutti, si fa come nelle trasmissioni... Sì, ma finiamone un'unica, se mi interrompe, se mi interrompe, se mi interrompe, se mi interrompe... Sintetizzo, il Milan ha tre ruoli scoperti, l'attaccante d'aria, un centrocampista e un esterno scoperti. E allora, e allora, e allora, qualcuno dello staff tecnico, senza essere Bucchioni, e ti faccio i complimenti, mi ha detto questa cosa qua, mi ha detto questa cosa qua, ma il signor Seno, a me, fuori taccuino, mi ha detto, esco molto più gratificato e con buone prospettive, non dibattere il Barcellona alla prossima, da 4-0, da questa partita rispetto alla partita di andata. Ma non mancherebbe altro? La partita di andata cosa è stata? Un colpo di culo? Allora, proviamo, proviamo, allora, facciamo un giochino, facciamo un giochino. Il signor, allora, il signor, allora, mi fai finire questo concetto, poi dopo metto così a condentare la mia amica. Esatto. Allora, attenzione, il Milan che gioca così, perderà forse ancora dal Barcellona, sarà dura con il Real Madrid, sarà forse dura col Bayern, ma con le altre, me le gioco con tutte, è chiaro che in questo momento ho tre. Sono già quattro. No, ragazzi, ma la Coppa dei Campioni il Milan l'ha affrontata sapendo di essere inferiore a qualche squadra, lui non ha detto, andiamo a vincere, facciamo la Coppa dei Campioni. Finito il tempo, vediamo, vediamo. No, il Milan punta il campionato e cerca di andare avanti, detto dalla dirigenza, superando gli ottavi di finale. Scegliendo di essere inferiore. Scegliendo di essere inferiore. Io vorrei sentire, guarderai anche degli altri occhi di del piacere, guardando però questa scheda, questo cartello grafico che ci indica proprio i numeri esatti della partita. Della partita di ieri. Esatto, allora, quattro ti rimporta da parte del Milan e otto del Barcellona. Non parliamo del rigore, perché il Barcellona ha vinto, non parliamo però del rigore dato al Barcellona. Quello di Fabregas? No, quello che è andato. Quello su Fabregas? No, quello che è andato. Quello su Fabregas? Diamo quello che è andato, lascia perdere quelli che avrebbero. Quello su Fabregas? E quello su Rubinio? Allora facciamo il Bar Sport, che non mi piace. Cominciamo a dire che abbiamo perso... Il Bar Sport è una cosa nobile. No, noi vogliamo fare quello. Parliamo anche del rigore. E non ci contestare. Parliamo anche del rigore. E non lo scioglio. Non fare l'intellettuale perché lo sei, ma il Bar Sport è una cosa sana. È una cosa sana, ma quando si dice andiamo a vedere il rigore... Sono le trasmissioni finte. Scusa, ma noi facciamo il Bar Sport poi elegante, facciamo la pasticceria. Ragazzi, andiamo a prendere i rigori. Andiamo a dire che il Bar di Montenapoleone... Io so come vuoi arrivare. E allora, il Barcellona è superiore al Milan. Punto. Il Milan di ieri, secondo me, se la va a giocare con Real Madrid in difficoltà, col Bayern Moden me la gioco e con tutte le altre. Bisogna dire, Rubio, però, che Gianni Mura, che è stato nostro ospite e tornerà presto, oggi scriveva su Repubblica il Barcellona troppo più forte del Milan. È più forte il Barcellona? Sì, ma scusami, scusami, ma è in contrasto. Proprio detto da Gianni Mura, è in contrasto con quello che ha detto lui prima. Un Milan eccellente. Cioè, capisci, con quello che ha scritto la gazzetta, vogliamo dirlo? Grande Milan. Dove sta la verità? Grande Milan. Eccellente Milan. Poi dopo dici troppo più forte il Barcellona. C'è troppa disparità tra le diverse opinioni. Capisci? Guarda, questo mi dispiace molto da italiano, perché vedere un Milan che parte già battuto nei confronti di un Barcellona, non lo accetto. Non lo accetto. È nell'ambito delle cose del calcio. In questo momento è il Barcellona la squadra più forte del mondo. E il Milan sta cercando con gli acquisti di colmare questo gap, ma non è mica colmato. Nessuno ha mai detto. Il Milan ha gli obiettivi precisi. Vincere il campionato e passare gli ottavi di finale. In questo momento, con la formazione che ha, con i ricambi, ha dei giocatori che devono essere cambiati, ha dei giocatori che sono in termini... Cioè, il Milan sta ricostruendo una grande squadra, ma in questo momento il Barcellona. Cioè, il Barcellona è il Barcellona. Vince sempre. Ha sbagliato una parita negli ultimi quattro anni. Con l'Inter e basta. Va bene, Bucchioni. Poi sentiamo anche l'avvocato Maricondo. Andiamo però a sentire il vostro parere da casa. Allora, Mario ci scrive. È stata una gran partita con un ottimo Milan, ma il grande Milan lo vedremo a febbraio. E la finale di Champions col Barça sarà la partita delle partite. E poi, non è stato un grande Milan nel senso di gioco di squadra, ma ha messo in rilievo solo alcune grandissime individualità. È mia opinione che la differenza l'abbiano fatta gli allenatori. Capita raramente, ma nel caso del Milan-Barcellona di ieri sera, ripeto, è mia opinione che la differenza l'abbiano fatta gli allenatori sia nel bene che nel male. E poi, Cristian ci scrive. Per me, il Milan ha subito. Se il Barça voleva e avesse avuto più fortuna, poteva fare parecchi gol in più. Ha dimostrato che poteva anche riportarsi in vantaggio quando voleva. Il Milan ha fatto i gol per distrazioni loro, perché ieri loro avevano la difesa incompleta e perché giochicchiavano troppo col possesso palla. E a volte le perdevano perché erano troppo vicini e pressati. Per loro era un allenamento. Allora, ti pregherei, amici da casa, di essere più sintetici. Adesso sgrido anche voi, non solo gli ospiti qua. Sgridiamo tutti. È vero, Pellegratti, perché sennò poi dopo il turno la finisci più. Approfitti e vai avanti. Ieri era una delle classiche partite per il Milan dove potevo approfittare. Ieri avevano una difesa incompleta, una difesa approssimativa, tant'è vero che Abidal e Puyolson... Ma gli mancava Dani Alves e Niestra, che sono due... E quindi non sono stati capaci di approfittare di questo tipo di discorso. Tutto quello che fanno loro invece davanti quando pressano. Ragazzi, il Barcellona si muoveva come una macchina che sembrava il Milan di Arrigo Sacchi in 20 metri così. Lasciamo stare l'individuale del Barcellona. Ma ti pressavano allo stadio. Ma Carlo ha detto la verità. Carlo ha detto la verità. Il Milan di Arrigo Sacchi. Cioè un Milan che aveva, che si riconosceva... La persona ha pensato di 30 anni. Ha pensato di 30 anni. Io voglio sapere sinceramente, è una provocazione questa, se tu vedi la mano di Allegri in questi due anni... Assolutamente bello, grande... In che cosa? Sì! In che cosa? Gli inserimenti di Boateng, il fatto di aver mandato via Pirlo e il Milan in testa la classifica lo stesso. Gli inserimenti di Boateng... Non è in testa la classifica. È in testa la classifica. Vabbè, allora è ai vertici. In testa la classifica. Primo. 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 Però dire così che aver mandato via Pirlo è un titolo di merito. No, no. Ha detto la mano. Non ho detto che ha fatto bene o me. No, perché Pirlo è... No, la mano serve... Ragazzi, allora... Io parlo del gioco. Quando è andato via Andrea Pirlo? Non avete detto tutti che è grande... Chissà il Milan doveva finire? Tutti no. Tutti no. No, allora no. Tutti. No, io ti chiedo, la mano di... Allora, risposta sì. La mano di Allegri, se c'è sopeccato, si vede o no? Ma molto però anche. Però? Ma molto però. Per l'Andi si vede? No. Allora? Eh? Ah no. Lui fa l'allenatore. No, con Boateng in mezzo che si fa gli inserimenti ma è fatto dal Milan. Allora... Non ho detto che sia giusto o sbagliato. La mano di Allegri. Vediamo... Ma è fatto dal Milan e un Milan che sta cambiando. Vediamo una cosa. Il calcio italiano. Il calcio italiano. Dobbiamo fermarci. Mi scusi, Landi, torniamo tra poco e continuiamo su questo tema molto interessante. Tra pochissimo. Allora, grazie.